Grazie a tutti. Alcuni interventi anche recenti molto toccanti perché toccano una lunga serie in particolare di lavoratori e lavoratrici legati alle aperture domenicali. C'è stato appunto un intervento recente e molto incisivo, possiamo dire. Sì, innanzitutto contestualizziamo, si tratta della discussione generale di una proposta di legge e tengo a dire la prima proposta di legge discussa in Parlamento, proposta di legge di iniziativa parlamentare, quindi proprio attività strettamente parlamentare, è una proposta del Movimento 5 Stelle. Quindi questo anche per sfatare alcuni miti di cui si sente parlare nei mass media o si legge nei giornali che il Movimento 5 Stelle non è propositivo, non sia propositivo, non porti avanti delle iniziative concrete ma sappia dire solo dei no. Ecco, la prova invece che la prima, dopo innumerevoli decreti legge, quindi decreti del governo, la prima proposta di legge di iniziativa proprio parlamentare è nostra, è del Movimento 5 Stelle. E verso chi va? Sì, va in direzione di due temi molto cari al Movimento 5 Stelle, cioè il supporto alle piccole imprese, in questo caso si tratta di imprese commerciali, e dopo andiamo a dettagliare lo specifico della proposta, e anche va incontro a un tema molto caro al Movimento 5 Stelle che è quello della cosiddetta democrazia diretta, ovvero quegli strumenti che permettono ai cittadini di incidere direttamente nella politica, nelle scelte politiche. In questo senso questa proposta si affianca a una proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato Libera la Domenica, che è stato promosso da confesercenti e che ha l'appoggio della conferenza episcopale italiana e di numerosi cittadini, che vuole proprio andare a incidere sugli orari delle aperture dei negozi e in particolare sulle aperture domenicali. Avete sposato quindi in ogni caso questa campagna particolare? La nostra proposta si differenzia in qualche punto, ma essenzialmente è quella di abolire le liberalizzazioni selvagge apportate dal decreto cosiddetto Salva Italia, fatto da Monti, che è la fine di un processo che ha portato a liberalizzare totalmente il commercio in Italia, portando all'apertura, alla possibilità dell'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ecco, i dati anche a nostra disposizione, a disposizione di tutti, mostrano come queste scelte non siano state poi così positive per le economie del nostro paese e quindi il primo tassello che vogliamo portare, che ovviamente non è risolutiva come proposta, ma comunque è un tassello importante, quello di riportare in seno alle regioni la possibilità di regolamentare la materia. Vi siete trovati da soli da questo punto di vista come spinta o avete avuto appoggio anche di altre forze politiche? Guardi, da questo punto di vista purtroppo, devo dire, ci siamo trovati abbastanza isolati, un po' la Lega ha risposto a queste esigenze, un po' meno ancora Shell e da parte dei partiti di maggioranza invece stiamo trovando resistenze più o meno forti che vanno dal totale rifiuto da parte di scelta civica fino a varie sfumature, fino al PD che appunto ancora si fatica a capire come si vuole posizionare rispetto a questa proposta. Però in aula la maggioranza si sta ponendo in maniera molto netta, nel senso che la proposta è molto semplice, consta di due articoli e la maggioranza ha proposto due emendamenti soppressivi. Quindi è successo raramente nel Parlamento italiano, bisogna dirlo, la proposta attualmente per come sono depositati attualmente gli emendamenti alla Camera verrà cancellata e quindi non si parlerà più di apertura domenicali finché qualcun altro non riuscirà a riportare il tema in Parlamento. E non potrà essere il Movimento 5 Stelle perché l'ha già fatto o è un modo... Di fatto sarà possibile ma noi presenteremo una proposta che è un doppione che avrebbe già ricevuto un rifiuto da parte della maggioranza. Comunque speriamo ancora che ci siano spazi per il dibattito parlamentare e che si possa tornare nel merito dell'argomento. Posso chiedere come si è arrivati sostanzialmente raccogliendo istanze dei cittadini? Come è stata valutata la proposta del Movimento 5 Stelle per le aperture domenicali, per rivolamentarle diversamente adesso, in base appunto a quanto è stato chiesto dagli elettori delle proposte in rete? Com'è che una proposta del Movimento 5 Stelle viene valutata e poi portata avanti? Certo, le nostre proposte comunque nascono da una condivisione, una condivisione in rete ma anche una condivisione con i vari gruppi territoriali. Quindi si attiva una rete di conoscenze e di competenze che poi portano a queste soluzioni. Faccio un esempio, una parte della proposta che prevede delle rotazioni, delle aperture è un'esperienza che era stata fatta nel comune di Modena. Quindi viene da un'esperienza già attituata. Già, esattamente. Di che cosa si tratta? Cosa dice questa proposta di legge? Essenzialmente abolisce proprio l'articolo 31 del decreto Salve Italia che ha permesso queste liberalizzazioni secondo noi selvagge. Poi c'è una seconda parte a cui c'è nato appena adesso che riguarda una regolamentazione di rotazioni a livello regionale, quindi gestibile a livello regionale, che ha suscitato anche qualche perplessità e sulle quali infatti noi siamo stati e siamo tuttora disponibilissimi a rivedere e quindi a cercare altre stade, anche semplicemente a tornare alla vecchia normativa come chiede i confesi esercenti, come chiede il Comitato Libera la Domenica. Tant'è che il controemendamento nostro agli emendamenti soppressivi di fatto ricalca la proposta del Comitato Libera la Domenica. Per cui abbiamo detto che non vogliamo piantare bandierine, non va bene la proposta del Movimento 5 Stelle, benissimo, guardate c'è una proposta di iniziativa popolare che ha raccolto 150.000 firme, quindi più di tre volte il necessario richiesto della Costituzione, ascoltate quella, seguite quella e votate quella. Questa è la nostra posizione. Per quanto riguarda quel merito, come mai noi vogliamo tornare indietro da questa scelta fatta dal governo Monti? Essenzialmente perché il governo Monti ha varato il Salvitaglia proprio per lanciare la crescita economica del Paese. Ma stiamo vedendo, abbiamo visto che con questo provvedimento questa crescita non c'è stata, anzi sta creando grossissime sofferenze. Da che punto di vista? Innanzitutto la proposta, il Salvitaglia prevedeva un aumento del PIL grazie a queste liberalizzazioni. E non è certo aumentato. E non è certo aumentato, ma di più è anche evidente, insomma anche una lettura molto semplice, che aprire sette giorni invece che sei, significa semplicemente spalmare i consumi su un arco di tempo maggiore. Non è che se io apro la domenica posso fare due pranzi, due cene al giorno, perché consumo di più in termini di spesa giornaliera. Ecco, questo sui consumi è un punto da cui ripartiamo tra pochissimo, piccola interruzione, e tra poco riprendiamo con l'ultima parte di Sette in Punto. Grazie. Negozi e centri commerciali aperti tutte le domeniche, ma si fanno veri affari. Questa è una delle valutazioni che stiamo facendo assieme a Marco Davila, deputato Movimento 5 Stelle, che ha presentato appunto alla Camera recentemente. E stiamo valutando appunto che questo aumento di flussi monetari effettivamente non è che ci sia stato. No, non c'è stato un aumento di PIL, ma un'altra motivazione con cui si potrebbe sostenere le aperture domenicali è la motivazione occupazionale. Cioè, aprire la domenica permette appunto la diminuzione della disoccupazione. Ci sono state più assunzioni? In realtà, sicuramente i centri commerciali che rispetto ai piccoli esercenti possono tenere aperto più facilmente la domenica, hanno assunto. Ma qual è la qualità di questo lavoro, cioè la qualità dei contratti con cui vengono assunti queste persone? E qua nascono le forti perplessità. Noi abbiamo perduto, tra il 2012 e il 2013, circa 90 mila posti di lavoro di piccoli imprese del commercio al dettaglio che hanno chiuso. Inoltre, uno studio che è precedente alla crisi del 2010 della CGA di Mestre, insomma, quindi autorevole, ci dà un dato interessante, cioè che per ogni occupato in più nella grande distribuzione, cioè nei centri commerciali, noi perdiamo sei occupati nel dettaglio, nel piccolo commercio. Nel piccolo commercio. E invece hanno messo in grossa difficoltà i piccoli esercenti che comunque non hanno, spesso sono imprese familiari, non hanno la possibilità di tenere aperto la domenica, se non sacrificando anche gli affetti e la propria vita, diciamo così, sociale. Voi dite dunque di tornare indietro nel senso, prima c'erano le regioni che stabilivano quante aperture, in Veneto all'incirca 20-22 domeniche all'anno, questa potrebbe essere la soluzione intanto? Sicuramente, è un tassello, noi cerchiamo di tornare al preesistente, anche noi diremmo anche meno. Anche meno. Anche meno. Cioè le otto domeniche più il periodo festivo di Natale, no? Tra l'altro da questo punto di vista c'è da notare che proprio qui in Veneto, grazie a queste liberalizzazioni selvagge, addirittura si sono verificati i casi di aperture natalizie, aperture, quindi veramente... Anche nei giorni, diciamo, deputati alla festività. Esatto, al riposo, insomma. Poi una delle obiezioni anche che ci è stata fatta in Parlamento rispetto a questa proposta è la competenza dello Stato rispetto alla libera concorrenza. Cioè si dice, la libera concorrenza è una materia che dall'articolo 117 della Costituzione viene riservato allo Stato, quindi non è possibile tornare indietro dalla previsione del Servitalia. Ecco, noi ovviamente a questa obiezione rispondiamo che sì, è vero che la libera concorrenza è tutelata dallo Stato, ma il commercio è materia regionale, sempre a norma dell'articolo 117, e inoltre c'è da dire che la Costituzione a noi piace leggerla nell'insieme e quindi contemperare i vari principi a cui si ispira. E allora in questo senso, diciamo, la maggior parte degli occupati nel settore sono donne e c'è un articolo 37 che tutela il lavoro delle donne, ma lo tutela anche in termini di rapporti familiari, quindi di apporto familiare e di rapporto madre-bambino. E quindi noi diciamo, va bene la tutela della libera concorrenza, però c'è anche un aspetto che viene anche richiamato dall'articolo 41, cioè la libera iniziativa non può svolgersi contro l'utilità sociale dell'attività economica e quindi anche da questo punto di vista ci sembra di avere buoni argomenti per tornare indietro dalle previsioni del Salvitale, insomma da questa liberalizzazione del Salvitale. C'è un aspetto che voi parlate appunto di questo, è una proposta anche legata alla modernizzazione del servizio, in qualche maniera qua, poter appunto offrire un servizio che serve, importante e rispettoso degli altri. Vedendo alla Camera, in uno dei suoi ultimi interventi, ha fatto anche un riferimento specifico sulla modernizzazione, permettendo anche di non essere troppo presuntuoso, ma dire sostanzialmente che un gruppo come il 5 Stelle, età media 33enne, devono essere gruppi come questi a decidere su cosa deve essere la modernizzazione. Com'è stata la risposta del resto dell'Aula? In realtà quell'intervento mio era in risposta a un intervento di un collega di un altro partito, che appunto aveva esordito dicendo con questa proposta di legge vediamo quanto sia difficile portare la modernizzazione nel Paese. E quindi la mia era una risposta al collega. In realtà se noi andiamo a vedere a livello europeo... Com'è la situazione? I maggiori, i più importanti paesi europei tengono chiusi la domenica. Anche la laicissima Olanda prevede le chiusure domenicali, quindi alle volte sembra che ci sia un po' questo complesso di inferiorità italiano, per cui si fa di più di quello che è necessario per poter portare la modernizzazione del Paese. E tanta grande distribuzione viene fra l'altro da quei paesi anche, è una piccola nota. E svolge anche un ruolo grossissimo in Francia, c'è il 90% del commercio che è affidato alla grande distribuzione, ma qui si tratta di capire che tipo di paese vogliamo. Penso sia sotto gli occhi di tutti che, passeggiando per un centro storico, constatare quante vetrine siano chiuse, con scritto vendesi, affittasi. E quindi dobbiamo capire in che direzione andare e capire anche il valore sociale di questo tipo di attività. Una vetrina illuminata, un negoziante che comunque è presente sul territorio, sulla strada dove si abita, è anche un presidio indiretto di sicurezza, perché sicuramente sarà più difficile l'atto vandalico, sarà più difficile l'atto di microcriminalità, che non in una strada deserta dove si passa da soli, senza queste presenze rassicuranti. Poi c'è anche l'aspetto di mancato gettito causato, quindi dal punto di vista proprio delle finanze dello Stato, c'è stata una perdita di 25 miliardi di Euro in canoni non percepiti. Questo significa 6 miliardi ogni anno di gettito fiscale sfumato. Questo significa, tanto per riportare alle proporzioni, l'operazione sull'Imu Prima Casa vale 4 miliardi, e noi qua ne perdiamo 6 con queste liberalizzazioni. La stessa aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ha l'ordine di grandezza, è lo stesso sui 4 miliardi. Quindi ci rendiamo conto che introducendo questa norma si può andare in una direzione che favorisca anche un aumento del gettito fiscale che c'era prima e che è stato perso. Ecco, dato cifre importanti. Se in questi primi 5-6 mesi di attività a Roma avete avuto l'impressione di aver viaggiato corso prevalentemente da soli o se in qualche modo ci sia stato intrascambio con le altre forze politiche sui vari temi, sulle altre cose? Ma guardi, lo scambio c'è sempre. In aula c'è più uno scambio molto diretto e sanguigno, oserei dire. Ma producente? Ecco, voglio dire, la persona che fino a 5 mesi fa faceva tutt'altro e arriva poi improvvisamente. Le dico, in aula è così. In commissione il rapporto è diverso. Perché nelle commissioni parlamentari sono 14, si è una cinquantina di persone e quindi il dialogo è già più facile, è proprio agevolato anche dalle dimensioni... E più produttivo? Devo dire che si lavora tanto, ma lo dico sinceramente, devo dire che il lavoro parlamentare non è leggero. Sulla produttività io ho dei dubbi, proprio questa è un po' la testimonianza, cioè una proposta depositata il 15 aprile che arriva a metà ottobre in aula significa aver perso diverso tempo, soprattutto se quel tempo è stato occupato per approvare atti del governo, quindi atti non strettamente di competenze del Parlamento. E questo da cosa può dipendere, vista dall'interno? Beh, guardi, sicuramente il bicameralismo, quindi il fatto che le leggi debbano passare prima una camera, poi un'altra, poi se vengono emendate dalla seconda e ritornano alla prima, questo è un meccanismo sicuramente fareginoso che va assolutamente riformato. Questa è la constatazione che ho sentito fare da diversi colleghi anche di altri schieramenti. Proprio chi viene da fuori, viene da altre realtà e arriva in Parlamento, si accorge proprio della pesantezza di questo sistema. Altra cosa che curiosità da fuori, ma com'è che capita che molte posizioni bianche o nere diventano grigie improvvisamente a seconda degli argomenti, dei momenti e delle convenienze? Sono più le convenienze, diciamo, a portare a queste mutazioni genetiche? Beh, questo sicuramente, ma non credo si possa attribuire al Movimento 5 Stelle. No, domando appunto alla visione, avete sicuramente visto in certe situazioni cambiamenti improvvisi. Voi avete fatto un percorso... Posso fare un esempio per tutti da questo punto di vista. La mozione Giacchetti sulla legge elettorale. C'è stato un momento in cui in Parlamento si è parlato di legge elettorale non per fare una legge elettorale, ma per affrontare una mozione che introduceva una sorta di clausola di salvaguardia. Cioè diceva in attesa di fare la nuova legge elettorale torniamo al mattarellum. Cioè, se non riusciamo a fare la nuova legge elettorale facciamo un passo indietro, invece che tornare a votare col porcellum torniamo al mattarellum. Questa mozione è stata presentata dal vicepresidente in quota PD della Camera, Roberto Giacchetti, presentata con oltre 100 firme del Partito Democratico. Al momento del voto le 100 firme si sono volatilizzate, è rimasto Giacchetti da solo a votare la sua proposta insieme al Movimento 5 Stelle e insieme a SEL. E quindi lì ci si chiede nel momento in cui c'era la possibilità effettiva di intanto fare un piccolo passo di miglioramento rispetto al porcellum come mai il PD abbia fatto quella scelta. Ecco, questo direi che è un esempio di quelle sfumature di grigio che, guardi, ci tengo a precisare questa cosa. Non è che il compromesso in sé sia sbagliato, il problema è quali sono le basi che portano al compromesso. Se le basi sono arrivare a una proposta migliorativa e in questo senso il nostro atteggiamento rispetto alla nostra proposta di legge sulle aperture dominicali è sempre stato apertissimo nei confronti veramente degli apporti di chiunque. Se appunto i presupposti sono questi il compromesso va bene. Se invece il compromesso è un doubt des, un accordi sotto banco perché non si può fare dispiacere al PDL perché essenzialmente sulla legge elettorale il concetto era quello stiamo governando col PDL al PDL non piace il mattarellum e quindi non possiamo votarlo. Ecco, questi sono i compromessi che fanno male al Paese. Ci sono stati compromessi anche nella legge di apertura dominicali, questa discussione che diceva che cominciate in aprile, che dopo sei mesi, questi sei mesi dove si sono persi? Allora, questi sei mesi si sono persi essenzialmente in commissione dove la maggioranza si è trovata a dover contemperare esigenze opposte. Commissione che si è riunita quante volte? Tanto per capire. No, beh, le commissioni si riuniscono tre volte alla settimana. E quindi teoricamente in tempi molto più brevi di sei mesi potevano essere risolte. Sì, anche se in commissione è necessario affrontare poi tutti quei provvedimenti del governo che poi arrivano in aula o in sede referente. Nel complesso. Esatto, quindi non è che non si sia riunita o non è che si sia temporeggiata. In realtà in commissione si è fatto un lavoro secondo me anche serio di audizioni di varie parti sociali dove le varie associazioni di categoria a parte ovviamente l'associazione di categoria della grande distribuzione organizzata erano tutte d'accordo con la nostra proposta i sindacati erano d'accordo con la nostra proposta abbiamo audito anche credo per la prima volta o comunque una delle pochissime volte i comitati dei cittadini perché noi col Movimento 5 Stelle abbiamo anche portato questo cioè i comitati dei cittadini a essere ascoltati in Parlamento a ascoltare le loro istanze e quindi dopo questa serie di audizioni si sono affiancate delle proposte alternative che però di fatto non affrontavano il problema di Petro cioè il problema è le liberalizzazioni introdotte dal Salvo Italia la mediazione del PD era attribuire in capo ai comuni un accordo con associazioni e sindacati che però non era vincolante quindi qualsiasi operatore economico avrebbe potuto mantenere aperto la domenica indipendentemente dall'accordo e dalla legge fatta quindi diversa da quello che era di fatto non avrebbe avuto efficacia siamo corsi con questa discussione fino a quasi alla fine mancano tre minuti quindi poco tempo per accennare però a un'altra iniziativa importante che è legata invece al casino purtroppo in due minuti è poco ma intanto si può infarinare cerchiamo di dare gli elementi essenziali col gruppo molto attivo di Venezia siamo intervenuti su una questione importante che è la cosiddetta svendita cioè l'affidamento a privati della gestione del casino di Venezia il problema qual è? che per giustificare questo affidamento ai privati il comune afferma che il casino non è gestito bene e anche qua potremmo parlare a lungo e quindi ha creato delle perdite in questi anni e quindi è stata in perdita negli ultimi anni in realtà questa è una lettura che secondo noi è errata questa lettura è stata proposta al Ministero dell'Interno ed ecco il senso della nostra interrogazione perché secondo noi è errata perché in realtà il casino di Venezia in questi anni ha prodotto degli utili quindi se io sono un imprenditore la mia azienda produce degli utili la ritengo un'azienda sana ma se io imprenditore in questo caso comune di Venezia decido che il casino mi deve dare una certa cifra che era 107 milioni di Euro e poi man mano sono andati calando che è superiore agli utili prodotti dal casino io inizio a di fatto scaricare i debiti del comune sull'azienda casino che funziona che però di fatto funziona produce degli utili e quindi noi critichiamo non tanto una privatizzazione in sé poi bisogna vedere anche entrare nel merito dei criteri con cui viene proposta questa privatizzazione ma critichiamo le motivazioni che secondo noi sono errate cioè il casino produce utili la risposta è sì e quindi comunque ha continuato a finanziare le attività del comune il problema è che le ha finanziate oltre le proprie possibilità cioè il comune ha chiesto più soldi di quelli che poteva produrre diciamo che sennò con la propria attività e la sintesi come tempi ci siamo stati ci sarà modo appunto di riprendere questo discorso ringrazio intanto Marco Davilla deputato del Movimento 5 Stelle per la sua partecipazione a Sette in Punto buona giornata a lei grazie a voi e buona giornata a tutti voi prossima edizione le nostre news la prima edizione dei tre giornali intorno alle 12.40 invece Sette in Punto torna puntualmente domattina alle 7 grazie a voi buona giornata grazie a tutti